tassi di interesse americani addirittura al 7 per cento e oro ovviamente che ne paga le conseguenze buongiorno a tutti qui vincenzo penna di investire.biz questa è caffè mercati la consueta rubrica della mattina dove si fa si fa il punto della situazione sui mercati finanziari sia dal punto di vista macro che dal punto di vista tecnico quindi mi sposterei subito sui grafici anche perché questo 7 per cento giustamente da cosa viene fuori dopo ve lo faccio vedere prima però di passare oltre visto che comunque c'è parecchio da dire e visto che dietro a questo questa rubrica c'è tanto tanto lavoro come sempre vi invito mettere like iscrivervi al canale attivare la campanella se non l'aveste ancora fatto anche perché io lo so che almeno il 50 per cento di voi non è ancora iscritto al canale quindi mi raccomando perché a voi veramente non costa nulla allora portandoci un attimino sul calendario economico vi faccio vedere rapidamente che cosa è successo allora le notizie più importanti sono questa relativa alla banca australiana quindi la decisione del tasso di interesse australiani che è rimasta invariata quindi continua la pausa mi pare che questo sia il terzo mese consecutivo di pausa con il rialzo dei tassi quindi diciamo la narrativa è un po quella quindi banche centrali che si stanno iniziando a spostare verso appunto questa pausa al rialzo dei tassi un altro dato significativo è l'inflazione per la svizzera che ovviamente impatterà sulle decisioni di politica monetaria future e vi faccio vedere che il la componente mensile quindi mese su mese rispetto a agosto è diminuita dello 0 1 per cento rispetto allo 0 2 del mese precedente addirittura anche quello annuale anche l'inflazione annuale è stata al di sotto delle aspettative quindi all'1,7 per cento il leggero rialzo rispetto all'1 e 6 per cento però vi ricordo che la svizzera ha tassi di interesse all'1 e 75 quindi con dati dell'inflazione del genere è molto improbabile che continui ad aumentare e probabilmente valuterà per un ulteriore pausa nella prossima riunione infatti poi parleremo molto nel dettaglio più di del cambio euro chf prima di proseguire verso questa questa narrativa qui vi faccio vedere il grafico dell'oro ne abbiamo già parlato abbiamo detto come effettivamente la discesa era troppo forte effettivamente potevamo raggiungere zone di 1820 1800 da questo momento in poi è molto probabile il rimbalzo però è molto complicato riuscire a capire quando avverrà anche perché le diciamo zone supportive sono state rotte dal punto di vista settimanale e quindi visto che facciamo un'analisi dal punto di vista settimanale vogliamo avere conferme di una probabile inversione sempre sullo stesso time frame quindi quello che voglio vedere magari è una bella candeluna verde che chiude al di sopra di quella precedente quindi per il momento i long che avevamo valutato la scorsa volta non sono ancora entrati e ovviamente attendiamo fiduciosi ma perché l'oro sta scendendo l'oro sta scendendo ve l'ho detto perché per tutta una serie di motivi che già vi ho detto in precedenza quindi con la nuova narrativa dei tassi di interesse più alti più a lungo per quanto riguarda gli stati uniti e ieri a rincarare la dose è stato Jimmy Diamond il CEO di JP Morgan la prima banca statunitense la prima banca al mondo che ha affermato di vedere i tassi di interesse USA quindi Stati Uniti addirittura al 7% attualmente siamo al 5 e mezzo quindi sono altri due punti anzi un punto percentuale e mezzo quindi tanta tanta ancora strada da fare questo ovviamente ha scioccato i mercati ovviamente è un'ipotesi del CEO che ha gettato diciamo acqua a suo mulino ma questo lo sappiamo tutti però i mercati ovviamente sono molto suscettibili e infatti l'oro nella giornata di oggi anzi vado a prendere il grafico giornaliero nella giornata di ieri e di oggi ha perso l'uno e mezzo per cento quindi abbastanza abbastanza e nulla questo per quanto riguarda il gold vi faccio vedere molto rapidamente il DAX che abbiamo fatto poi tra l'altro proprio ieri mattina DAX che dalla nostra analisi ha praticamente perso il 1,90-1,80% 270 punti chi ha fatto l'operazione vi invito a scriverlo nei commenti perché mi fa molto piacere se qualcuno ha seguito e se qualcuno soprattutto ha guadagnato da questa operazione e gli spiragli di bassisti ovviamente non finiscono qui quindi come ci siamo detti i target sono i soldi quindi magari 1550 primo target 14500 secondo target e poi ovviamente ci aggiorneremo sicuramente oggi però volevo portarvi un'analisi su euro chf molto rapidamente visto che stiamo veramente molto molto stretti allora un ingresso vi ricordo che noi avevamo già parlato di euro chf avevamo parlato di questo fortissimo impulso avevamo parlato come effettivamente poteva ritornare in questa zona ci è ritornato infatti secondo me è un'ottima occasione di riacquisto proprio per ciò che abbiamo detto sui tassi di interesse in precedenza quindi banca swiss national bank che non ha tanto spazio per continuare ad alzare i tassi mentre la bce probabilmente è un'altra carta da 25 punti base da giocare da qui a fine anno quindi l'euro in teoria da qui alla fine del 2023 dovrebbe essere leggermente più forte del franco svizzero quindi operiamo proprio in questo modo ci posizionano magari long o da livelli attuali o per chi vuole un attimino attendere un ulteriore ritracciamento a 0 e 96 tundi quindi l'ingresso è circa all'intorno di 0 96 il lo stop loss lo potete inserire o a 0 95 5 oppure meglio ancora a 0 95 e 1 quindi questa è la doppia scelta in base all'aggressività della strategia e poi ovviamente primo target in zona 0 96 e 9 0 97 all'incirca eccoci qui 0 96 e 9 secondo target ovviamente la zona di 0 97 e 4 questa è l'operazione molto interessante sia dal punto di vista macro che dal punto di vista tecnico quindi mi sento comunque di consigliarvela caldamente ovviamente come sempre resteremo aggiornati poi per quanto riguarda la situazione macroeconomica del gold dei tassi interesse eccetera quello che però volevo ricordarvi è che oggi come tutti i martedì anzi mi sposto di nuovo sul sito come tutti i martedì ci sarà l'appuntamento con Pietro Liglia è il nostro esperto di mercato azionario americano e italiano e come sempre alle ore 15 l'evento è totalmente gratuito quindi andate sul sito di investire.biz sezione webinar e vi scrivete lasciando i vostri dati tutto in maniera semplice se non riuscite ad esserci alle ore 15 ovviamente vi verrà fornita la registrazione ragazzi è stato un piacere come sempre e come sempre vi auguro una buona giornata e un buon trading a tutti ciao ciao